Nella lezione 73 per quanto riguarda il nostro percorso che va verso la fusion e il jazz, ma in pratica ci siamo già con questo brano di Charlie Parker, Billy's Bounce. Da dire c'è che nel fascicolo troverete segnalati all'interno delle misure le scale che Luca Colombo utilizzerà man mano lungo tutto il percorso del brano. Imparate a memoria la melodia, non sarà facile impararla perché ha soprattutto il punto di vista ritmico delle difficoltà e allora come al solito mettete in pratica il sistema di impararlo, imparare la melodia pezzettino per pezzettino, misura per misura, magari due per volta e poi attaccatele insieme. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!